Per la siccità ma anche per gli incendi, non soltanto nel salernitano ma in tutta Italia, in Campania tra l'altro che in maglia nera in Italia si è avuto un incremento del 1000% rispetto all'anno scorso. Preoccupazioni su Salerno mi hanno portato anche a questa ordinanza. È un'ordinanza che doverosamente mi sono sentito di firmare, perché obiettivamente c'è un allarme sociale ampio, vasto, che intercetta i territori della regione Campania, ma in me non solo, l'intera Italia come le diceva a poc'anzi. C'è un'azione criminale che è sostanzialmente complicata da decodificare. Faccio difficoltà per quando mi ci impegni a capire quali possono essere le reali motivazioni di atti così sciagurati, in tutta un'està. Generalmente l'atto criminale ha una sua finalità. Questo ha una finalità che credo sia semplicemente eversiva, una finalità intimidatoria, rivolta verso le istituzioni e verso i cittadini. Vanno duramente perseguiti, censurati e condannati. A Salerno, fortunatamente, il fenomeno è relativamente limitato. Ho fatto questa ordinanza generale, rivolta ai proprietari dei suoli, dei terreni, di tenerli in ordine e tenerli in condizione di sicurezza. Un'ordinanza di ordine generale. E poi, invece, ci sono anche delle ordinanze mirate da alcuni fondi che noi riteniamo particolarmente suscettibili di incendio. Quindi proprio ad personam. Dal canto nostro abbiamo intensificato i controlli, sapendo che noi possiamo agire limitatamente. Insomma, le nostre forze sono esigue e dobbiamo curarci di tutto. Comunque, ho chiesto al comando dei vigili urbani di fare delle azioni di intensificazione dei controlli. Verificherò la possibilità di un incontro anche in prefettura per ipotesi di azioni interforze per scopo dissuasivo da un lato e dall'altro del controllo del territorio. Però vi renderete conto che una mente criminale, una mano criminale, che dà fuoco a delle sterpaglie, o dà fuoco ad una pineta, o dà fuoco a un boschetto, o dà fuoco a un giardino, è difficilmente controllabile. Chiedo anche ai cittadini di alzare la guardia e se hanno dei sospetti, di telefonare senza indugio ai vigili del fuoco, alla pulizia municipale e agli altri organi di pulizia.